ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco rimeda a cosa serve rimeda un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per ginecologia altri è commercializzato in italia dall'azienda arvin s as di dario manuel e compagni informazioni commerciali titolare arvin s as di dario manuel e compagni concessionario arvin s as di dario manuel e compagni categoria di appartenenza dispositivi per ginecologia altri forma farmaceutica crema confezioni rimeda crema vaginale 30 ml indicazioni ripristino l'elasticità e il tono dei tessuti epiteliali urogenitali fieno greco fk marchio registrato con lieve rilascio di fitoestrogeni rassodano e ripristinano la giusta tensione ed elasticità ai tessuti connettivi intimi a sostegno di benefici funzionali incontinenza urinaria prolassi rapporti sessuali ed estetici un aspetto sodo e turgido ha visto da sempre come segno di femminilità e giovinezza regola la fisiologica secrezione vaginale l'acido ialuronico a tre pesi molecolari differenziati idrata e incoraggia la lubrificazione naturale favorendola fisiologica riepite l'izzazione e stimolando la rigenerazione cellulare olio di avocado di mandorle e di jojoba alleviano le comuni irritazioni e attenuano i fastidiosi pruriti contrasta le comuni infezioni batteriche contiene teatre oil ed echinacea sostanze ben note nel creare un ambiente ostile alla proliferazione di agenti patogeni batteri e lieviti svolgendo un'azione protettiva da recidive previene ed elimina la formazione di odori sgradevoli sfera sessuale l'importante azione di cam archioregistrato in sinergia con panax ginsenghi arginina già dopo poche applicazioni genera una significativa azione a euro s astringente a euro s del canale vaginale a vantaggio di un aumento della sensibilità sia propria che del partner un incremento della libido e un amplificata risposta agli stimoli con orgasmi più intensi ed appaganti modalità d'uso dopo un'adeguata detersione applicare preferibilmente alla sera prima di coricarsi una piccola quantità di prodotto equivalente a due erogate distribuendo con un leggero massaggio sia nelle parti esterne che interne consigliamo un ciclo iniziale di tre mesi in seguito al fine di mantenimento consigliamo due terzi applicazioni settimanali o comunque al momento del bisogno senza superare le tre applicazioni al giorno avvertire un leggero senso di bruciore o di calore a del tutto normale in quanto il fenomeno può essere indotto dall'azione di vascolarizzazione degli ingredienti presenti nel composto può essere utilizzata semplicemente come lubrificante barra stimolante alcuni minuti prima del rapporto sessuale compatibile con l'utilizzo di spirali diaframma e del profilattico avvertenze non utilizzare in gravidanza o allattamento o in caso di sensibilità accertata ad uno pià componenti presenti nonostante numerosi studi abbiano confermato l'utilità e i benefici dei fitoestrogeni naturali e l'assenza di effetti collaterali chiedere sempre e comunque il parere del proprio medico curante prima di utilizzare il prodotto tenere fuori dalla portata dei bambini in caso di indagini ginecologiche informare il proprio medico sull'utilizzo del prodotto applicare al massimo tre volte al giorno componenti e ingredienti coco caprilate amamelis virginiana leaf water aqua glycerine quercus infettoria prunusa migdalus dulcis oil simunziacinensis ed oil sodium astiaro il lactilate tocco feri l'acetate pueraria amirifica root extract titanium di oxide caprilic barra capric glicerides etilic silmetoxicinamate maltodextrin arginine hcl caprilic barra capric trigliceride per sé a gratissima oil phenoxy etanol panax ginseng root extract sodium polyacrilate trigonella foenum graicum extract xan tangum sodium ialuronate amamelis virginiana extract melaleuca alternifolia oil e chinace angustifolia extract parfum alumina etilic silglicerine polidroccystiaric acid silica limonene fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato